Corpus Domini Nostri, Jesu Christi, custodia tani mamme, amm, invitami eterna mamme. Corpus Domini Nostri, Jesu Christi... Oce, Oce, Pedro, eh, eh. Potremmo smieto il po' a reclapce. Oce, Oce, Pedro, eh, eh. To sou profesorovie hodinky, ne? Neznáš sedmé fi kázaní. Pejmenu oce i syna i ducha smatele, ahem.